Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre i bolscevichi assalirono il Palazzo d'Inverno, sede del governo provvisorio, e presero il potere. L'attacco fu organizzato da Liev Davidovich Bronstein, conosciuto con lo pseudonimo Trotsky, proveniente dalla minoranza mescevica. Questo fu un vero e proprio colpo di stato, Kerensky fu costretto a fuggire e il vecchio governo provvisorio venne sostituito da un governo rivoluzionario, dal nome Consiglio dei Commissari del Popolo, presieduto da Lenin. Lenin fece immediatamente approvare dei provvedimenti, grazie ai quali si assicurò l'appoggio dei contadini, ossia Controllo operaio delle fabbriche Confisca delle terra i grandi proprietari terrieri e la suddivisione di esse tra i contadini Uguaglianza tra tutti i cittadini Nazionalizzazione delle banche Uscita dalla guerra Il 25 novembre 1917, si tennero le prime elezioni libere in Russia, a suffragio universale e scrutinio segreto, per eleggere l'Assemblea Costituente. Queste sentenziarono la scomparsa dei menschevichi, la vittoria dei social-rivoluzionari, e misero in minoranza i bolshevichi. Lenin sentì il suo potere minacciato e a dicembre fondò la Polizia Segreta Nazionale, la CECA. Quando i delegati dell'Assemblea votarono il 18 gennaio 1918 contro la consegna di ogni potere ai Soviet, Lenin lasciò l'aula e fu l'ultima riunione autorizzata dai bolshevichi. L'Assemblea venne sciolta per ordine di Lenin, i suoi delegati arrestati ed ebbe fine, solo dopo un giorno, la democrazia in Russia. Con lo scioglimento dell'Assemblea Costituente i bolshevichi rinunciarono al principio democratico che imponeva di accettare la volontà della maggioranza, ciò li mise nella posizione di poter governare con la forza e con metodi dittatoriali. Le persecuzioni della CECA non si rivolsero solo nei confronti dei nemici della rivoluzione, ma anche contro coloro che pur sostenitori di essa non erano bolshevichi. La sovranità venne riconosciuta solo ai Soviet ma, in realtà, era concentrata nelle mani del partito bolshevico, iniziò quel sistema monopartitico che caratterizzerà tutte le società di tipo sovietico. Da sottolineare che Lenin non intendeva abbattere le leggi, sosteneva infatti che la democrazia socialista dovesse essere la democrazia borghese senza la borghesia e che la cultura socialista dovesse essere la cultura della società borghese senza la borghesia. In altre parole, lo Stato socialista doveva essere una continuazione dello Stato borghese senza la borghesia, cioè senza lo sfruttamento da parte della classe media che aveva caratterizzato la società fino ad allora. Grazie. Grazie.